No, adesso lo che ho visto allenando la squadra, tutti stanno bene, non è facile dire, ho sempre lo stesso problema, ho 4-5 giocatori che giocano dietro la punta, che possono farlo bene in ogni ruolo, non è un problema, ho detto sempre buono per me, difficile per voi perché non sappiamo chi va a giocare, ancora non lo so, aspettiamo e vediamo che succede, tra la differenza tra uno e l'altro è lo stesso, uno è più forte nella fase offensiva, uno è più forte perché può fare gol, un altro lavora meglio nella fase difensiva, questo è buono perché abbiamo più equilibrio.